Coronavirusi positivi in provincia di Belluno si attestano ad oggi intorno ai 3.800, la tendenza sembra essere quella di una leggera discesa dei contagi. Intanto continua il rafforzamento dell'Ulse Dolomiti, sono stati assunti 46 operatori sociosanitari e sono stati conferiti incarichi libero professionali per l'emergenza covid a 19 medici e a 5 infermieri. Il nuovo personale andrà a rafforzare il territorio con l'assistenza domiciliare integrata, una boccata di ossigeno ha commentato il direttore generale dell'Ulse Dolomiti Rasi Caldogno per potenziare in particolare i servizi territoriali. E tiene banco in queste ore il dibattito sul nuovo DPCM sulle norme previste per il periodo natalizio. Da Venezia il presidente regionale Luca Zaia ha criticato in particolare il divieto imposto nel decreto natale di spostarsi dai propri comuni di residenza nei giorni del 25 e 26 novembre e nel giorno dell'epifania. Questa norma è una bestialità scientifica, ha ribadito il governatore. Chiudere un piccolo comune non è la stessa cosa che chiuderne uno con milioni di abitanti. Quanti è che la rispetteranno? E non è giusto non rispettare una norma, no? La legge va rispettata. Cosa penseranno quei cittadini dei piccoli comuni, anziani, chiusi in casa, quando vedranno in tv chi non avrà rispettato le regole? Se c'è una categoria a rischio sono proprio i nonni e le nonne. La loro messa in sicurezza viene prima di tutto. È innegabile che per loro il ritrovarsi con i familiari possa rappresentare un minimo elemento di rischio, soprattutto se non si rispettano le regole. Ma che da qui si dica che la chiusura del confine è una garanzia, decisamente no. E in relazione all'allerta meteo rossa diramata oggi dalla protezione civile per ragioni di sicurezza si segnala che è sospesa l'operatività di tutti i drive-in tamponi dell'Ulss Dolomiti dalla mezzanotte di oggi 4 dicembre alle 7 di lunedì 7 dicembre.